10 5 4 3 2 1 20 sinistra 5 per destra e sinistra e destra 6 facciamole forti per sconnessa sinistra 3 più per via sinistra 1 gira via subito subito destra 1 vai 40 via muro destra 4 più 30 destra e sinistra 3 30 via subito ritardo destra 4 più tieni intornate sinistro veloci veloci adesso per sinistra 5 meno in destra 4 più lo facciamo forte subito sinistra 5 in destra 5 meno per attenzione tornante destro sinistro sinistra 4 più subito tornate sinistro in destra 5 in sinistra 5 lunga vai forte per destra 5 più la facciamo piena per casa destra 3 più in sinistra 6 via subito per ritarda molto a rei destra 1 gira stacca più avanti in sinistra 4 colpettino e via 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 per sinistra 1 pulito per sinistra 5 30 sinistra 2 tieni subito destra 1 leggerissimo subito sinistra 2 vai via 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 per addosso destra 4 più vai che buona adesso 80 sciccana stai a destra via via per sinistra 5 più via subito destra 5 più lunga lo spiazzottini facciamola forte subito sinistra 5 meno attaccati adesso 100 sciccana stai a destra stretta per palo ritarda sinistra 4 meno lunga tieni sconnessa alla fine in destra 5 lunga tieni concentrato sconnessa la staccata tornante sinistro ci volerà un po' il tornante ma vai tranquillo per tornante destro no via destra destra 5 subito sinistra 4 più apre per sinistra 2 meno meno ci volerà un po' questa 30 destra adesso ritarda molto l'inghiera destra 5 meno aspettala tanto 30 via destra e sinistra 4 più 30 tieni bello attaccato destra 4 più subito sinistra 4 più forte forte subito destra 5 subito sinistra 5 meno in destra 5 tieni bello attaccato 40 scon veloce stai a destra via 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 Via, 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 bravo, tio. Andee, io viri così, io non ce la facevo. Bravo, tio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.